musica 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 dai vai vai bella sta doppio saug alza è bellissima la doppio saug si da usare si contro no spero di trovarti una volta tanto contro no no c'è un altro rambo ce ne erano tre comunque non siamo più in vantaggio no ne ho fatto una tripla l'avevo sfondato quel poretto non mi piace quello lì che corre con una bella bella la tripla di granata bersaglio abbattuto uno what due con headshot raga questo qua abbiamo contro uno che usa mausetta stiera easy beh con 14 di sensibilità non puoi avere una mira troppo precisa non ho smirato manco un colpo cosa non è entrato in colpa quell'altro doll no non l'avevo visto quello nell'angolo ma ma mi sento un pochino cancro ma giusto un pochino eh io vorrei fare una cacchio di sanguinario uno ma basta raga cecchino ma no devi fare il cecchino onda stiamo oh niente non muore quello lì il prophet è immortale siamo in vantaggio dai vicino però non puoi fare un cazzo beh almeno sto a fare positivo almeno poveretto a te pare che ce n'è un altro col cecchino che mi mirava addirittura poverini raga no no poverino dove spawnano questi? non lo so non ne ho la minima idea madonna regalo furfish è fortissimo ovunque eh già poverino 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 finalmente l'hanno migliorato madonna di dio questo qua dove sta? che schifo colonia puncher mamma mia no ho preso io tiro ancora in culo no tanto trappo calma dio è che... ma dai tutti in una casa stanno ma sul serio? alfa guarda quanto sto facendo vabbè io 67 sto facendo tutto è negativo ho fatto un subito un senza pietà appena ero entrato nella casa cioè nella cosa di lì giustamente tu fai senza pietà e a me che sei un misero sanguinario non mi viene fuori ma poi sono morti alfa non ci vuole un... non trovo nessuno se li trovo li devo tre insieme alfa devi giocare a cazzo a cazzo devi giocare se no vieni con me te le mando one shot e te le faccio finire no no one shot no me lo vedo io uno non mi va lo devo fare da solo uno vabbè o comunque se mi date la mano al quinto eventualmente vabbè dove stai che ti seguo? allora questo ok sei tu alfa vieni con me alfa vieni con me sto a uno ancora tranquillo c'è tanto tempo andiamo ah questa non c'è male due aspetta 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 due aspetta no 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 non fare il pazzo non pushare no infatti no 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 non entrare c'è una con la macchina da guerra fermi ok attivazione sensore madonna guarda come fa quello rcx di nemico in zona dai ma come fa quello con l'icr io che c'ho la saug doppia ma da me c'ho la saug doppia eh da vicino no 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 ecco tontan rica quanto scioglio lo sward fish 3 Via 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 4 Non ci posso credere Mi metti a oro Mi metti a oro guardala che bella E mi metti a spettro Cambio a classe adesso Inizio con l'ICR Oh esplode quel figlio di puttana Vabbè scialla 11.8 Fatto pure positivo 31.13 31.13 Bello E' mia Eccolo questo è il sanguinario 3 2 3 2 4 E 5 E 5 E 6 E sanguinario Sii regate La felicità La felicità Mi sono preso pure la chimica E' questa E' questa raga Mi è un progetto